Torna il sereno sulla Murgia. Team Altamura blocca in casa un taranto lanciato verso l'avvetta e muove la classifica dopo due sconfitte consecutive. Gravina bagna con un successo l'esordio in panchina di Valeriano Loseto. Derby dalle grandi emozioni ieri pomeriggio sul prato del Torino d'Angelo in uno dei tre affari tutti pugliesi in programma nel turno infrasettimanale della decima giornata. Quattro reti, due per parte, Ionici in vantaggio a metà della prima frazione con un colpo di testa vincente di D'Agostino su invito dell'ex disenso. I Murgiani pareggiano i conti con questo tapin di tedesco prima del riposo però e il Taranto a rimettere la testa avanti in spaccata con favetta ad una decina di minuti dal novantesimo. Arriva poi l'episodio decisivo espulso Bova per questo fallo dal limite sulla successiva punizione. Guadalupi con la complicità di una deviazione in barriera fissa il punteggio sul definitivo 2-2 perché nel finale entrambe le squadre provano a vincere ma non trovano l'acuto da tre punti. La società intanto continua a sondare il mercato degli allenatori per individuare il sostituto dell'esonerato Claudio De Luca decisamente in calo. Le quotazioni di Alberto Villa e Michele Armenise in rialzo quelle di Aldo Papagni e Salvatore Campilongo con ogni probabilità come già accaduto ieri contro il Taranto. A sedere sulla panchina del team Altamura domenica prossima a Gragnano sarà ancora una volta il tecnico della Juniors Leo Di Benedetto. Buona la prima per Valeriano Losseto dicevamo al timone del Gravina che batte 3-1 in casa il Pomigliano e torna a vincere dopo due sconfitte consecutive che sono costate l'esonero di Pino Di Meo. Murgiani avanti dopo un minuto con Santoro, Campani che impattano in avvio di ripresa con Girardi, Madì e lo stesso Santoro a metà frazione mettono le ali ai giallo-blu. Vittoria che vale tanto per morale e classifica in vista del derby esterno di domenica con il Cerignola. Terzo successo di fila e terza gara senza subire reti per il Lardò che batte 2-0 in casa il Sorrento con una rete per tempo. Cordella apre nella prima frazione, Chiare Matenga raddoppia nella ripresa, Nardò addirittura quarto in graduatoria.